Da diverse settimane è obbligatoria la mascherina, però per tanti, per chi porta gli occhiali è un bel problema perché capita che le lenti si appannano. Qualche consiglio per evitare che ciò avvenga? La prima cosa da fare è tenere sempre ben pulite le lenti, anche con un po' di acqua tiepida e un panno in cotone per pulire la superficie. Il consiglio è quello di tenere la mascherina un po' più alta e far poggiare la montatura sopra la mascherina, in modo tale che l'aria esca di lato e non vada a finire letteralmente sulle lenti e a appandarle. In questo modo, respirando, non si appannano le lenti. È importante sempre la pulizia, almeno due o tre volte al giorno, lasciando così la superficie libera, un po' come un vetro della macchina, più è pulito e meno si appanna e meno si fa condensa su di esso. Si è parlato tanto delle lenti a contatto, gli esperti invitavano a non usarle. In questa fase 2, che possiamo dire? Continuiamo su questa strada oppure chi le usava può ritornarle a usare? Diciamo che un buon utilizzo delle lenti a contatto fa sì che non ci siano rischi e pericoli per una contaminazione, però essendo l'occhio un veicolo per il virus, come le goccioline di sudore che escono dal naso, anche le parti umide dell'occhio possono veicolare facilmente il virus e a prescindere dalla lente a contatto è sempre buono non toccare con le mani le parti oculari, la faccia in generale ed avere una maggiore cura della lente a contatto. Si può utilizzare sempre con le dovute precauzioni e una massima igiene.